Ti stai avvicinando al mondo del video editing e cercando su YouTube o su Google hai trovato parole come lunghezza focale? Oggi ti spiego cos'è. Ciao, io sono Luca e in questo video ti spiegherò cos'è la lunghezza focale. La caratteristica principale di un obiettivo è la sua lunghezza focale ed è espressa in millimetri. Non è altro che la distanza tra il centro ottico e il piano focale. Il centro ottico è situato al centro del tuo obiettivo, mentre il piano focale è situato praticamente dove c'è il sensore della tua macchina. E in questo punto è dove si converge il fuoco che andrai a fare sulle tue immagini. Tutte le macchine fotografiche hanno impresso un simbolo. Questo ci fa capire il punto esatto in cui è il punto focale, ossia il sensore. Ma questo tutorial nasce per spiegare in maniera facile e con esempi pratici, quindi lasciamo stare le terminologie e passiamo a degli esempi. La distanza focale, quella espressa in millimetri, si trova sulla ghiera del tuo obiettivo. Puoi avere un obiettivo a focale fissa, ad esempio un 85 mm, dove non avrà escursione da 24 a 85, ma sarà fisso su 85 mm. Questo significa che la distanza in millimetri che la luce percorre dall'ingresso del tuo obiettivo fino al piano focale, ossia al sensore, è di giusti 85 mm. Esistono degli obiettivi a focale variabile, come quello che sto usando in questo momento. È un 24-70, significa che ha un'escursione da 24 mm a 70 mm di distanza tra il centro dell'obiettivo e il tuo sensore. Nel caso tu utilizzassi ad esempio un obiettivo da 200 mm e portassi la ghiera fino a 200 mm, sai che quella è l'esatta distanza che la luce percorrerà dall'inizio dell'obiettivo, dal centro dell'obiettivo, fino al tuo punto focale, ossia sempre il sensore. Ma in che modo la distanza focale può andare a cambiare il risultato della nostra ripresa o della nostra fotografia? Cosa cambia ad esempio un'immagine scattata a 24 mm o un'immagine scattata a 50 mm? Tieni conto che quando si parla di lunghezza focale non si può non considerare l'angolo di ripresa. Più aumenterai la lunghezza focale e minore sarà l'angolo di ripresa. Te lo spiego subito. Fai finta che il mio telefono sia il centro ottico, ossia il centro del tuo obiettivo e questo righello sia il piano focale, ossia praticamente il tuo sensore. Più queste due cose si avvicinano, più l'angolo di ripresa si ingrandirà. Ecco perché ad esempio su un obiettivo da 10 mm, quindi con una distanza molto breve tra il centro ottico e il piano focale, si ingrandirà l'angolo di ripresa. Con un teleobiettivo ad esempio, con una lunghezza focale di 100, di 200 mm, l'angolo di ripresa andrà ad assottigliarsi. Questo significa che la porzione di quello che tu vedrai nella foto o nella tua clip video sarà molto ridotta quando i millimetri saranno tanti e sarà molto più ampia quando i millimetri saranno pochi. Ti faccio un esempio. Quando si parla di riprendere un paesaggio, una ripresa o una foto che sia, è molto probabile scegliere un obiettivo da 8, da 10 mm, proprio per avere una visuale molto ampia. Il nostro angolo di ripresa sarà di fatto più limitato nel caso in cui andremo a portare la nostra lunghezza focale a 50 mm, anziché a 35 mm. Variando quindi la lunghezza focale, determineremo l'ampiezza della nostra ripresa e determineremo quanti e quali elementi entreranno nella nostra ripresa o meno. L'occhio umano stesso, ad esempio, ha un angolo di ripresa che va da 120 gradi in verticale e 150 gradi in orizzontale. Un'ottica definita, ad esempio, normale, è proprio un obiettivo da 50 mm, perché è quello che più si avvicina alla porzione vista dall'occhio umano. Ora che ti è più chiaro che un obiettivo da 50 mm rappresenta lo standard, proprio perché paragonato all'occhio umano, ti sarà più facile capire che tutto quello che è sotto il 50 mm di lunghezza focale viene definito grandangolare. Tutto quello che invece è sopra i 50 mm di lunghezza focale viene definito tele, il famoso teleobiettivo. Quando parlo di ampiezza di visuale, non intendo solo quello che puoi vedere a livello periferico con i tuoi occhi, ma quello che puoi vedere bene, ossia a fuoco. Un obiettivo grandangolare, ad esempio da 8 o da 10 mm, ti darà la possibilità di vedere anche la parte periferica a fuoco, quindi di vederla bene. Sono sicuro che in questo momento riuscirai a percepire quello che hai a sinistra e a destra della tua testa, proprio perché hai una visione abbastanza grandangolare, ma non riuscirai mai a metterla a fuoco, a meno che tu non ti girerai verso un obiettivo e metterai a fuoco quello. Quello che fa il grandangolo è di mettere a fuoco la porzione più ampia possibile. Questo significa visione. Nella fotografia, ad esempio, ma anche nel videomaking, quando si sceglie di riprendere un paesaggio, l'opzione sarà sicuramente su un grandangolo, proprio perché ti dà la possibilità di avere una porzione molto ampia di quello che vuoi vedere, con tantissimi elementi all'interno della tua foto o del tuo video. Quando si sceglie invece di fare un ritratto a una persona, è molto più facile che si scelga un teleobiettivo o qualcosa che va dal 50 mm in su, proprio perché si va a concentrare sul soggetto tutto il fuoco e tutta la parte che risulterà il centro della tua foto. Tutto quello che sarà periferico verrà probabilmente sfocato e questo è sicuramente voluto. Spero di essere stato abbastanza chiaro nello spiegarti cos'è la lunghezza focale, perché mi rendo conto non essere un tema molto facile. Come sempre ti chiedo di mettere un like a questo video o di iscriverti al canale e ci vediamo al prossimo video.